Sono con noi Elio Lannutti dell'associazione Adusbef, è presidente dell'associazione Adusbef. Ricordiamo, Adusbef sta per associazione di difesa consumatori e utenti bancari, finanziari e assicurativi. E' con noi anche Daniele Pesco del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Finanze alla Camera. Grazie per essere qui. Lannutti, dunque, vogliamo ricordare che cosa è accaduto tra il 2005 e il 2008 al tasso Euribor? C'è stata una clamorosa manipolazione da parte delle banche che ogni giorno decidono qual è il tasso Euribor, fissano questo tasso, che è il riferimento di ogni prestito indicizzato. Quindi se uno ha un mutuo a tasso indicizzato variabile, paga uno spread, mettiamolo 1,5%, più l'Euribor. Se viene manipolato, se viene alterato questo tasso, significa che c'è un danno. E l'antitrust europeo ha sanzionato il cartello di alcune banche e le ha sanzionate con una multa importante, diciamo di 1,7 miliardi di euro per cartelli illegali, e le banche di riferimento sanzionate erano alcune importanti. Quindi significa che coloro che tra il 2005 e il 2008 avevano stipulato un tasso variabile indicizzato all'Euribor hanno il diritto al risarcimento, perché quel contratto era nullo, annullabile. A chi vuole andare sul sito www.adus.it trova un modulo che è questo e può esercitare i propri diritti risarcitori. I propri diritti di risarcimento. Ma per fare una stima, ecco, quanto le famiglie italiane hanno pagato indebitamente? Noi abbiamo stimato attorno 3,5 miliardi di euro solo in Italia. 3,5 miliardi che, come l'anatocismo, 7 miliardi. Questi si guardano bene dal risarcire, però noi continuiamo ad informare anche grazie all'accesso. Pesco, gli interessi che andranno restituiti si riferiscono precisamente a quale periodo? Tra il 2005 e il 2008. La cosa più sconvolgente è che queste banche che hanno manipolato il tasso Euribor sono anche specialisti in titolo di Stato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono quelle banche autorizzate a cedere alle aste dei titoli di Stato del nostro Ministero per l'Economia e le Finanze e quindi sono gli unici che possono comprare titoli di Stato. Quindi queste banche non solo erano nostri acquirenti di titoli, ma in più erano quelli che hanno manipolato il tasso Euribor. Dico una cosa in più. Lo Stato ha stipulato con queste banche anche i cosiddetti contratti derivati. Quei contratti con i quali i nostri governi che ci hanno preceduto hanno fatto delle scommesse sull'andamento dei tassi e dei titoli di Stato. E guarda caso i derivati permettono allo Stato di pagare non gli interessi veri, ma gli interessi in Euribor, logicamente con l'aggiunta dello spread. Quindi si fa uno scambio praticamente. La banca accetta di pagare il tasso fisso, quello dei titoli di Stato, e lo Stato paga a queste banche un tasso Euribor più uno spread. Le stesse banche, alcune di queste, hanno manipolato questo tasso. Quindi dobbiamo renderci conto che il problema del risarcimento danni non riguarda solo i cittadini, ma riguarda anche lo Stato. E noi abbiamo chiesto con diverse interrogazioni al Governo. Se non intende fare delle azioni legali contro queste banche, purtroppo ad oggi non abbiamo ancora ricevuto risposte concrete. Nel senso che, visto che non si sa ancora bene come è stato manipolato nei dettagli, non possono fare nulla. Invece ci sono delle sentenze, il Libro Bianco della Commissione delle Stazioni Europee ci informano che basta una sentenza contro le aziende che hanno agito contro la Libra Concorrenza come strumento per il risarcimento danni. Quindi anche lo Stato, secondo noi, può farlo. E noi abbiamo chiesto quanti dei derivati, lo Stato aveva stipulato tra il 2005 e il 2008 con queste quattro banche. Nel 2005 si trattava di 15,7 miliardi di nozionale, 18,7 miliardi a fine 2008. Quindi tanti soldi. Quindi lo Stato, secondo noi, dovrebbe assolutamente chiedere l'annullamento di questi contratti per avere indietro i soldi spesi. Una cosa molto semplice. È chiaro, la situazione è molto chiara. Lanuti, allora qual è la posizione dell'Adosbev sullo stato di salute attuale dell'Euribor? Lo stato di salute attuale che bisognerebbe, ripeto, risarcire. Io ringrazio Daniele Pesco perché ha aggiunto ulteriore contenzioso. Perché vogliamo ricordare i derivati, queste assicurazioni, insomma. Noi abbiamo pagato, ci sono 160 miliardi. Iniziò quando era direttore generale del Tesoro Mario Draghi, l'attuale Presidente della Banca Centrale Europea, 161 miliardi. Noi abbiamo pagato, secondo Eurostat, negli ultimi 4 anni, 6 miliardi di euro l'anno, ossia 24 miliardi di euro. E quindi tutto questo ha inciso anche sull'aumento del debito pubblico. è arrivato a 2.260 miliardi di euro. Nello stato di diritto, chi sbaglia paga. Noi abbiamo già chiesto, ripeto, con i moduli e adesso attendiamo le sentenze dei tribunali. Non ci sono dubbi sulla nullità dei contratti, ossia, poiché sono manipolati in applicazione all'articolo 1.284 del Codice Civile e in applicazione del disposto 1.418 secondo come 1.436 del Codice Civile, le banche devono restituire quando illegittimamente... Allora, vogliamo dire ai nostri, a chi ci ascolta, come è possibile agire per avere un rimborso, grazie al supporto di Adusbef. Allora, già ho fatto vedere, questo è il modulo. Trevolta www.adusbef.it. Ci sono tutte le istruzioni e se mi permette, noi siamo un'associazione nata 30 anni fa. Se mi permette, sabato scorso abbiamo fatto, quindi sabato 13, il decimo congresso straordinario. Noi ci siamo battuti, per la povera gente, contro le banche in un'epoca dove questo neoliberismo, questa dittatura totalitaria del neoliberismo, in questi giorni è stata anche l'indagine dell'Istat. Abbiamo gente sempre più impoverita dalle politiche economiche scellerate e abbiamo le banche che vengono sempre salvate. Dal 2013 hanno ricevuto 81 miliardi di euro di 16 provvedimenti. Vogliamo che ci sia giustizia ed equità. Pesco, vogliamo dire quali consigli a chi volesse accendere un mutuo? I consigli sono quelli di agire con prudenza, perché purtroppo sappiamo che i tassi di riferimento sono, soprattutto il variabile, a un andamento che è difficilmente presumibile. Quindi io sinceramente alle persone di solito consiglio sempre il tasso fisso per essere tranquilli. In più, adesso siamo in un periodo dove il tasso fisso è veramente basso. Sarebbe un rischio esagerato andare incontro a un tasso variabile, visto che non si sa cosa può capitare. Quindi io consiglio il tasso fisso. Una cosa da non fare invece per le aziende soprattutto è quella di stipulare i derivati, perché spesso molte aziende invogliate dalle banche vengono così invitate a stipulare dei contratti di finanziamento derivati. E sono delle scommesse e quindi queste scommesse andrebbero assolutamente evitate. Qual è il gioco forza delle banche? Un po' come è successo con i titoli di Stato. È il fatto che la banca ti offre un finanziamento, quando compra ad esempio i titoli di Stato ma anche alle aziende offre finanziamenti, dall'altra parte ti chiede però di stipulare o una garanzia o un derivato. Alla fine se ci pensiamo anche quando si va a fare un mutuo in banca e si sceglie il tasso fisso, poi la banca offre invece qualcosa per arrivare al tasso variabile, anche quello è un derivato alla fine. Ecco allora un'ultima domanda a Lannotti. Quale aiuto da Adusbef per verificare se il mutuo stipulato è regolare? Intanto non bisogna fermarsi alla prima banca, ci sono più banche, ci sono tante associazioni di consumatori che possono verificare però sempre preventivamente perché ci sono clausole vessatorie nei contratti. Quindi sempre prima, chi ci ascolta, magari prima di stipulare, aspettate qualche giorno, informatevi bene prima perché poi quando abbiamo stipulato magari un contratto che non risponde alle nostre esigenze, io sono d'accordo con Daniele Pesco, mutui a tasso fissi in questa situazione economica, stipulate a tasso fisso, non a tasso variabile, magari indicizzata all'Euribor. Bene, grazie, grazie a Elio Lannotti, grazie a Daniele Pesco, un saluto anche all'Associazione